Buonasera signori e signori, oggi è sabato 11 maggio, siamo ritornati io e il magnifico... Maggio! 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 Dai, va là, in sansè! Io e il magnifico rettore dell'Università della Spazzatura di Cesena, dottor, professor e chi più ne ha più ne metta, Davide Forti, e canteremo per voi... Cominci lei, cominci, cominci! Corri, corri, oh cavallo, corri, oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo... Comincia così, ridere, ridere, ridere ancora, ridi dai! Ora la guerra paura non fa, bruciano le divise dentro il fuoco la sera, bruciano le gola di nostra zetta, musica di tamburelli, fino a... E poi? Io ti seguo, io ti seguo! Dai, facciamo il ritornello! Oh oh cavallo, 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 oh oh... Basta, adesso. Adesso cosa devi fare prima di chiudere la linea? Devi salutare... Salutare! Sì, ma chi? Il... Lo sponsor! Lo sponsor! Telepathis! È là lo sponsor, guardatelo eh, è bello! Oh, autostrade, tutte autostrade, ok, vi salutiamo, passiamo e chiudiamo... Chiudiamo, eliminiamo pure il video, perché non ha senso... Saluti, saluti, prof, prof, devi salutare... Ciao, cipollini! Oh, bravo, bravo, ciao, ciao!